Sì, perché era tanto tempo che non vincevamo, vincere fa sempre bene, ripartire dopo le vacanze subito con la vittoria ti dà una fiducia in più per le prossime partite in cui dovremo continuare a fare quello che abbiamo sempre lavorato a fare e magari come oggi è uscito meglio, altre volte abbiamo fatto più fatica. Sì, ci ha dato ma neanche troppe indicazioni nel senso cose semplici che però vuole che assolutamente vengano applicate e noi abbiamo cercato di fare quello che ci è stato chiesto e abbiamo fatto un'ottima partita secondo me. Non è molto differente penso la mia condizione rispetto a come è finito, ovviamente quando tutta la squadra gira bene si vede che anche i singoli sembrano stiano meglio ma penso che oggi abbiamo fatto una gran partita di squadra e tutti magari hanno risaltato di più rispetto a quando facevamo partite dove sbagliavamo di più, non che non ci mettevamo il massimo perché noi ci abbiamo sempre messo il massimo, poi portati da avversari molto organizzati, partite complicate si vedeva di meno, ho detto oggi abbiamo cercato tutti di ripartire nel migliore dei modi, abbiamo fatto quello che ci è stato chiesto e è andata bene così. Allora dalla mia posizione penso di no, non l'ho visto, cioè nel senso io ero lì e siamo entrati penso tutte e due in scivolata mi pare, non credo sinceramente ci sia stato il fallo, poi non l'ho rivista quindi magari rivedremo. Vedendo c'è stato qualcosa di cui non mi sono accorto però penso di noio. Allora quello che intendeva il mister penso fosse partire a giocare da dietro, dal portiere a inizio azione, io penso che Alberto dalla porta vedeva che comunque loro venivano uomo uomo e non voleva rischiare in un momento magari dove quello che conta è il risultato perché è la cosa più importante, e poi magari dopo qualche risultato viene anche più fiducia e più consapevolezza, si può giocare di più, penso che comunque se le valutazioni vengono fatte in campo uno può vedere una cosa più giusta e lui vede da dietro quindi penso abbia fatto le sue scelte migliori. Grazie. Grazie.